Sardis, unico E.C.O. Partite, eccola qui l'inizio. Dobbiamo aspettare una partita di alto livello. L'assist per E.C.O., la conclusione del gol. Secondo gol di Eric e secondo gol di E.C.O. Quindi ancora il tiro ed il gol con Perena che è rientrato in porta, però... Il marco giusto per il tiro ed il gol da parte di De Santis. Si riparte con Manuel Lovic, il tiro. Ora c'è il gol numero 24 per Eric, massimo vantaggio di sette reti, 17-24. Dalla costa, l'elevazione, il tiro ed il gol. Palla che supera Iacovella e porta quindi il punteggio sul 19-25. Si può ripartire tutta sola, quindi ancora Basolo all'uno contro uno col portiere. Tiro, palla schiacciata e gol numero 27. 22-27, Eric c'è la prima finalista al femminile della Coppa Italia di palla a mano. Sconfigge quindi 27-22 Salerno.